Ecco cosa succede a voler scherzare con un tornado in questo impressionante video girato nel deserto dell'Arizona, video dell'assurda missione di questo ragazzo di scattarsi una foto all'interno di un tornado. Impresa che si conclude nell'unica maniera possibile, non si può sfidare una potenza tanto forte a meno che non si sia disposti a mettere a repentaglio la propria vita per un autoscatto forse senza senso.